Felice! Oh! Angolorata! Ma dove sta quel vecchio cecato? Ah, vecchia! Lui è fashion snello affascinante Lei è bella, sembra la Lorella Tutti insieme in un palazzo immaginando Oh, quanto è figo! Il condominio strano, eccolo qua! Chi sarà più pazzo non si sa! E allora, resta con noi! E' una straniera! E' fuori da casa mia! E' fuori da casa mia! Buonasera! Buonasera! Buongiorno! Sono venuta a cercare i mini, Max, ma non ci sono! I mini, ma... Di chi sono i mini, ma... Guarda, sembra quel cretino di tuo nipò! Ma guarda, c'è anche il tuo di nipote, eh! Mica solo mio! Ma la parte è tua, eh! Non ci sta nessuno qua! Noi ce ne stiamo andando! Ma come va se solo da parte mia siamo sposati e nipò del figlio del figlio? Del figlio tuo! Del figlio del figlio! Ma... E' talmente vecchia che manco più le discendenze riesce a calcolare! Da Mosè deve partire! Ma non andiamo che è tardi! Signori, qua non ci sta nessuno! Nooo! Arrivederla! Arrivederci! Tanti belli! Signori! Stattiva attenzione a non cadere che lì c'è la... C'è il... Il posto! Che c'è? E tu, qui dove tu ingiambi sempre, non capisci più che ormai è cieco! Come una talpa! E te lo dico a fare! Eh! Madonna mia! Non ce la posso fare più! Corre, corre! Gli dico se vai piano! Che vuoi cadere! Non è di là! Che la voglio! Madonna! Non ce la faccio più! Cammina! Cammina! Madonna! Qua è che brava! Madonna! Sì! Tu con me! Tu con me! Tu con me! Ah! Mini! Devo fare la valigia! Mini! Vieni per aiutare! Pfff! 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 Oh yeah! Pfff! Non c'è niente! Non c'è niente! Non hai niente? Ma se con le magliettine, i pantaloncini che hai, i vestiti, i scarpe, i gioielli... Ha voglia? Diventaresti anziana? Invece, ti faccio vedere come si fanno le valigie, io... Oh! Si prendono le magliette! Fatta la valigia! Sette ore a fare la valigia! Eccola qua! Ma hai chiuso la porta! Ho chiuso, ho chiuso! Andiamo! Andiamo! A Foligno! Dove vai con quella sedia? Rimbambini! Questa è la mia sedia! Che li hanno le sedie là? Ce li hanno! Che certo! Perché a Foligno hanno aumentato la sedia! Madonna! E che lo doveva dire? Ma chi sta a pensare la sedia? La casa nostra è 40 anni! Quanto è? Eh vabbè, la lascio qui! Andiamo che io ho preso tutto il mio bagaglio! Ora ristrutturiamo! Speriamo di tornare presto! Ristrutturare? Ma se questa è vecchia quanto te! Che quando c'erano gli assiri papilionesi c'era pure questo! E c'eri pure te! Vecchia! Ma se ma cammina che sei cercato! Manca lo sai! Ok cambiamo casa! Manca te ne accorgi! Qual è la casa vecchia e casa nuova! Non ci vedi più! Andiamo a Foligno dai! Aspetta! Ma dov'è il valore dei ladri? Si! Di qua devi andare! descobrimo dai! bis zumo uff! Bis zumo uff! hasta la недdita balzazione! Bis zumo uff! ViszBr quieter! Uno! Un team! Esattamente palazzo! Un team! Un team! Un team! Amici! se vi è piaciuto questo video mettete tanti like ci rivediamo alla prossima puntata forse